Propaganda negativa, non guardate nemmeno questo video. Audiolibro umoristico Scritto da Jeronimo Lopez Soldevilla Ogni somiglianza con la realtà è una pura coincidenza, ogni somiglianza con eventi, persone o luoghi attuali, viventi o meno, reali o fittizi, è una mera coincidenza e il prodotto di una febbrile immaginazione dell'autore. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare le cuffie, anche se non è strettamente necessario per fruire dei contenuti. Salve, non leggete questo audiolibro, non ascoltatelo, non vi piacerà, inoltre, finite subito di guardarlo e iniziate a fare cose migliori, siete abbastanza grandi per questo e molto altro. Mi viene in mente, per esempio, di dirvi di iniziare a guardare un altro video, qualunque esso sia, non mi interessa, ma un altro video che non sia questo. Non mettete a questo video che vi piace, sarebbe un'azione che non merita il vostro preziosissimo tempo, e non sognatevi nemmeno di suonare la campanella, ve lo dico perché così eviterete di scoprire qualsiasi cosa abbia a che fare con questo video, e se a questo punto per caso vi venisse in mente di abbonarvi, lasciate perdere, non fatelo, non abbonatevi, per favore, ve lo chiedo con tutto il cuore. Questo audiolibro, per non chiamarlo spazzatura, non vale la pena di essere ascoltato da nessuno, non ha contenuti, non parla di nulla, e se quello che volete avere una sensazione di vuoto e di perdita di tempo quando finite di ascoltare cosa state per ascoltare. Questo è ciò che accadrà e, man mano che il video procede, vi assicuro che diventa sempre più noioso di un pagliaccio a una veglia funebre. Non condividetelo con nessuno, nessuna persona al mondo merita di soffrire un dolore mentale come quello di una palla nell'orecchio. Riuscite a immaginare il ridicolo di qualcuno capace di condividere un audiolibro con i propri amici. E, per di più, di un audiolibro capace di andare ben oltre il confine della noia per diventare un vero e proprio abominio degno del massimo disprezzo possibile causato da un tedio insopportabile. In questo video non si parla di animaletti buffi con una risata standardizzata in sottofondo che non piace a nessuno. In questo video non vedrete l'autore dire che capisce perfettamente come un autore che sa malapena leggere o scrivere moderatamente bene a causa della sua scarsa formazione accademica ricevuta nella scuola normale, e che aspira solo a guadagnarsi da vivere con i pagamenti di YouTube cercando di caricare video virali, anche se parla a vanvera e nella speranza di trovare un pubblico come lui, che metta like, si iscriva e lo condivida con altri come lui. Questo video non riguarda i politici che si rendono ridicoli comportandosi come candidati a una carica politica al momento delle elezioni, parlando di se stessi e dimostrando di essere in grado di salutare e parlare con persone a cui non importa nulla della loro vita prima delle elezioni, figuriamoci dopo. Non è nemmeno un video che tratta un linguaggio che promette la piena occupazione, la crescita economica, l'aumento del potere d'acquisto, la rivalutazione del lavoro, l'importanza dell'istruzione, della cultura e della legalità nel quadro della moralità, con protagonista un essere che, nel corso della sua carriera professionale e con le sue azioni, ha dimostrato di comportarsi come un ignorante pieno di pregiudizi, e quindi un incompetente che ha goduto di preferenze a costo di disprezzare la morale collettiva, attraverso l'inganno e la trasgressione delle regole che governano quella comunità e di cui continua a cercare di vivere con privilegi attraverso una storia inventata in cui i cattivi sono coloro che scoprono le sue idilliache bugie di un mondo migliore che solo lui conosce e che solo lui è in grado di realizzare. Non è un video che riguarda un alto funzionario pubblico registrato in incognito a una cena con uomini d'affari premiati con contratti concessi dal governo, e che il giorno dopo, quando la sua voce appare in una registrazione in tutti i telegiornali nazionali, il signore registrato, con la sua stessa voce, afferma di non aver mai detto di aver bisogno di una grande quantità di milioni di dollari per vincere le prossime elezioni, che in realtà si riferiva e implicava che gli investimenti sarebbero stati sicuri come scommettere su un cavallo vincente attraverso offerte in busta chiusa, dove invece di mettere l'importo del capitale per l'opera o il servizio a cui volevano accedere, dovevano inviare una busta chiusa con l'importo netto da contribuire alla campagna. Non c'è nemmeno un video registrato successivamente, in cui l'uomo smentisce il video precedente, dicendo che l'audio è stato modificato, e anche se c'è un altro video in diretta in cui l'uomo registrato alla cena prende delle valigette piene di banconote, anche lui smentisce, sostenendo che si trattava di un pagamento per alcuni formaggi artigianali che vendeva legalmente per il consumo dei clienti di alcuni casinò senza licenza. Non è un video che mostra un gruppo di neolaureati in economia che hanno investito i loro risparmi e quelli delle loro famiglie in immobili e criptovalute su consiglio dei loro professori universitari, e che dopo la bolla immobiliare, il declino delle criptovalute, l'inflazione galoppante e i rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali per cercare di arginare la situazione, hanno finito per aggravarla, che ha finito per aggravare la situazione, ha fatto sì che tutte le loro proprietà valessero meno del debito contratto al momento dell'acquisto, con il risultato che questi studenti di economia si trovano ora completamente pignorati e sfrattati, perché anche se vendono i beni acquistati e quelli dei loro parenti che hanno fatto da garanti, sono ancora in debito. Non è nemmeno un video in cui un visionario racconta come uscire dalla crisi degli studenti di scienze economiche attraverso formule magiche, pozioni e stregonerie che lui stesso ha messo alla prova, consistenti nel falsificare documenti pubblici e privati per liberarsi dei debiti passandoli, alcuni agli amanti della moglie, altri ai mariti delle sue amanti, coinvolgendo in questi intrecci anche terze persone, come cognati, suoceri e cugini di secondo grado. Questo non è un video di risposta di un visionario al visionario precedente che dice che lavora meno di una spia sordomuta con una gamba sola. Si finanzia con la pensione dei genitori, ai quali ruba i mobili e gli elettrodomestici per venderli attraverso un'associazione di bambini disabili che affittano per chiedere l'elemosina e pulire i parabrezza e i semafori. Non è un video che cerca di convincere qualcuno che è possibile e più importante avere un amico in un partito politico che avere un lavoro a tempo indeterminato, perché attraverso l'amico del partito politico si può ottenere qualcosa di meglio di un lavoro, cioè ricchezza, prosperità, opportunità e una vita migliore per tutta la vita, anche se con il rischio di giocare tutto su una carta, senza dire nel video che l'intenzione è quella di puntare su quella carta indipendentemente dalle conseguenze. Per vostra informazione, dopo aver visto questo video, una prestigiosa università che non ha voluto fornire il proprio nome per l'imbarazzo di ammettere di aver guardato l'intero video per una ricerca, ha segnalato il ricovero d'urgenza dell'intero gruppo di ricerca in una struttura psichiatrica con segni di grave depressione. Studi in un'altra università da parte di quattro studenti espulsi perché, a 50 anni e non ancora abilitati, non potevano continuare le loro ricerche a spese delle casse pubbliche, oltre a gestire la mensa, le finanze e il piano didattico in corso. Hanno dimostrato che la visione di questo video migliora del 300% il risultato di un trattamento del viso, grazie alle smorfie di disgusto e disappunto prodotte dalla noia di ascoltarlo. L'altro giorno, senza andare oltre, mi sono imbattuto in un ragazzo con un'infinità di brufoli e buchi in faccia, che assomigliava più a un calcare che a un volto, e che tutti chiamavano la cicatrice. L'altro giorno, mi fece un cenno con la mano per dirmi di aspettare un momento, quindi si chinò e, dopo un piccolo salto, si rimise rapidamente in piedi, tenendo in mano una serie di fogli che pose sulla mia mano, ma non prima di essere inciampato, con un po' di goffaggine in più, su una ciotola di ketchup di un chiosco di hot dog dove mi stavo nascondendo dal mondo. Il risultato della scivolata fu che la cicatrice rovesciò il liquido rosso sui fogli che avevo in mano. Questo fatto, a sua volta, ha fatto sì che immediatamente, come in un'azione riflessa, le portasse al petto della sua camicia per strofinarle con forza nel tentativo di pulirle velocemente, le stendesse e me le mettesse davanti, accompagnate da un sorriso che cercava di dirmi di non preoccuparmi, che andava tutto bene, che non c'era assolutamente nulla di cui preoccuparsi, ma di firmare quelle carte, rendendomi responsabile di qualsiasi cosa potesse succedergli per aver. Ascoltato questo video in forma di audiolibro. Nell'ansia di verificare se avrei avuto problemi con il signor cicatrizz, ho mostrato il video a un amico e lui, senza dire una parola, mi ha spaccato il computer in testa e, approfittando del fatto che ero svenuto per il tremendo colpo, mi ha rubato tutti i miei risparmi, e io ho dovuto ancora chiedergli perdono. Non contento della reazione del mio amico, decisi di mostrare questo video alla mia cara moglie, ma questa volta lo feci su un grande televisore che avevo dovuto comprare dopo l'appropriazione in debita fatta dal mio amico. A seguito di questa azione mia moglie mi ha denunciato direttamente alle autorità competenti in ambito familiare, dove ho finito per essere colpevole nel processo contro di me quando ha mostrato questo video come prova, e nella cui sentenza è stato specificato che ero obbligato a pagarle uno stipendio mensile che la mia cara moglie avrebbe poi usato per giocare d'azzardo online e comprare un cane da 50 kg, con la conseguenza finale che dovevo anche pagare il mantenimento del cane. Restituirle la pensione con effetto retroattivo per il fatto che aveva condiviso parte della sua vita con me, occuparmi dei debiti della sua carta di credito e di quelli del suo nuovo amante, e anche pagare le sue meritate vacanze di tre mesi all'anno in una località turistica molto esclusiva. Preferisco non parlare della casa e delle proprietà della mia famiglia, perché le ha tenute come risarcimento per il danno psicologico causato. L'unica cosa che manca ora è una pubblicità per farvi smettere di guardare questo video, una pubblicità che dica che ciò che pubblicizzano è falso e che riconosca che vogliono ingannarvi, perché la cosa più importante per questa azienda sono loro stessi e per questo devono fare pubblicità per cercare di vendere perché non si sono resi conto di aver lasciato da parte la cosa più importante, cioè il cliente. A questo punto, l'unica cosa che manca è la parte che racconta come l'audiolibro sia stato realizzato con immagini che fingono di essere divertenti ma non lo sono e che vengono utilizzate solo come riempitivo per tenere lo spettatore davanti al video per più tempo al fine di accumulare ore di riproduzione. Quindi, se vi è passato per la testa di dare un premio a questo audiolibro, non fatelo, perché qui non viene insegnato nulla, non si tratta di un tutorial di meccanica fatto da un parrucchiere. Non si tratta di un video su come imparare a programmare in 5 minuti partendo da zero e senza computer. Non è un video che ti sbatte in faccia come mangiare in un ristorante gratis minacciandoti di essere un influencer capace di fare propaganda negativa. Non è un video che vi insegna come educare ai valori i vostri amici che vi ignorano perché le loro comunicazioni sul cellulare sono più importanti della vostra stessa presenza che disprezzano ignorandovi. Non è un video di fake news lanciato premeditatamente dai troll attraverso immagini accompagnate da testi che cercano di inculcarvi un'idea della realtà secondo gli interessi di un gruppo, in modo che la condividiate pensando che questo vi rende interessanti di fronte ad amici virtuali incapaci di comunicare con l'attività fisica, impossibili da educare, con un quoziente. Intellettivo minimo è un encefalogramma piatto che vi rispondono con faccine sorridenti perché non considerano nemmeno che valga la pena di scrivervi con tutte le lettere non essere idiota. Non è un video di un idiota che viene pagato per essere un idiota, con una conversazione idiota che ha con i suoi seguaci idioti, dimostrando che chi segue un idiota è anche un idiota, per la stessa ragione, che più per più equivale a più. E per finire questo video non è quello tipico che vi dice, se il video vi è piaciuto datemi un like, non dimenticate di iscrivervi e di premere la campanella per ricevere informazioni dal canale e soprattutto condividete. Grazie per l'attenzione. Se vi è piaciuta la narrazione, visitate il mio canale dove potrete trovare una grande varietà di contenuti e dove caricherò altri brevi audiolibri umoristici. La fine. Grazie per la visione.